Si sa che poi quando i bambini giocano imparano a crescere, quindi è fondamentale poter rendere i giochi accessibili. Giocando si impara la campagna nazionale 2017 dell'Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare che vuol rendere accessibili ed inclusivi i parchi e le aree verdi italiane, dotandole così di giostre e giochi adatti anche ai bambini con disabilità. In Arezzo c'è la realtà di qualche gioco inclusivo, però ancora siamo molto lontani da poter dire che ci sono dei parchi completamente inclusivi. In che modo possono diventarlo? Allora, intanto tenendo conto dell'accessibilità al parco stesso, quindi sollevando la situazione dei gradini e facendo degli scivoli per poter arrivare bene con una carrozzina. Ma poi ci sono dei veri giochi, tipo altalene, dondoli, che sono già apposta creati per bambini con difficoltà motoria. Ce ne sono ad Arezzo di aree gioco inclusive? Alcuni parchi sono dotati di altalene a forma di cestello, che per esempio è un tipo di gioco che può fruire anche un bambino con difficoltà motoria e giocare insieme ad altri. La sezione aretina in occasione della giornata nazionale dell'Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare sarà sino al 17 aprile dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 in piazza Sai Jacopo per raccogliere fondi per rendere i parchi gioco accessibili a tutti i bambini. Noi ora ce la stiamo mettendo tutta per cercare di raccogliere il più possibile perché in Arezzo ci si ha altri parchi proprio con dei giochi adatti. È un diritto di questi bambini poter giocare nei nostri parchi? Assolutamente sì.